Allora, la semifinale con l'Aspico eravamo tutti quanti vogliosi di vincere perché era un campionato veramente contro tutto e tutti Quel gol grazie al reparto offensivo insieme a Valerio Cerimboli Mi ha passato praticamente la palla e diciamo che il gol è venuto un piattone semplice anche perché col destro come dicono tanti neanche l'autobus si ci prende Mi piace molto Passeri nel senso che a livello calcistico mi piace molto perché c'ha praticamente un antico secco e come tutti i mancini è un po' imprevedibile Dunque anche il gol con noi stava girando spalle e fece una gran giocata quella assolutamente La maglia purtroppo è attaccata a pelle anche perché altrimenti mi uccidono praticamente E' un po' imprevedibile